Via Libera del Consiglio Comunale alla variazione di bilancio, un documento sostanzialmente tecnico, ereditato di fatto dall'amministrazione Dosi, che ha visto l'ok da parte della maggioranza di centrodestra e anche del centrosinistra, in particolare del Partito Democratico e di Piacenza+. Si sono astenuti invece Piacenza in Comune, si è astenuto Liberi e hanno votato invece contro il Movimento 5 Stelle. La vera variazione la vedremo più avanti, dove cominceranno a esserci le scelte di questa amministrazione. Qui era solo da verificare se sussistono, se permangono gli equilibri di bilancio. La risposta è positiva da parte degli uffici, fra l'altro con parere del Collegio dei Revisori. Domanda cruciale, i conti del Comune come sono, come li ha trovati? In equilibrio, nel senso che le risorse sono quelle che sono, non mancano come ho già detto per garantire i servizi essenziali, bisognerà trovare invece le risorse per fare degli investimenti. Hanno assistito ai lavori dell'Aula anche alcuni cittadini di Borgo Trebbia, cui sta molto a cuore la questione legata alla rimozione delle lastre in Ethernet dall'ex maneggio della frazione.